Per quanto mi riguarda, con questo ennesimo argomento decisivo ho concluso il confronto con la filosofia. In questo video parlerò del rapporto tra esistenza ed essenza, mostrando che esse siano inseparabili e che dunque Severino abbia sostenuto tesi certamente corrette riguardo all'eternismo radicale. In che modo l'esistenza potrebbe essere separata dall'essenza? In nessun modo. Se X, dove X sta per ogni essente, ogni aspetto positivo della realtà, quindi anche una determinazione, una sintesi, è essente, è ovvio che esista. Se X è essente deve essere ovviamente identico a sé, altrimenti sarebbe falso che è X ad essere essente. Ma solo ciò che esiste può essere identico a sé. Ciò che non esiste in alcun modo, in che modo potrebbe essere identico a sé? L'identità è una proprietà di ciò che è ed esiste, non del nulla. Ciò che è ritenuto inesistente non può avere alcuna proprietà, neanche quella di essere identico a sé? Un'essenza che non esistesse in alcun modo, pertanto non sarebbe identica a sé, e quindi non sarebbe affatto. Un'esistenza che non fosse l'esistenza di qualcosa di intrinsecamente determinato. Sarebbe esistenza di nulla, e quindi non sarebbe esistenza affatto. L'esistenza è condizione necessaria per l'identità, e quest'ultima è condizione necessaria per l'esistenza, come appena dimostrato. Questo significa che esistenza ed essenza, dove l'essenza è l'identità correlata alla stessa esistenza, sono inseparabili e costituiscono in modo originario l'essersé di un essente, a prescindere dal suo modo di essere e di esistere. Da ciò segue quindi che affermare il divenire nichilistico, non eternistico dunque, di un qualunque essente, significhi affermare una contraddizione, per molteplici aspetti. Di un essente ritenuto non più o non ancora esistente, si avrebbe una negazione dell'identità, che però è incontrovestibile, in quanto l'ipotesi contraria va in autonegazione. Per dire che X non sia X, e quindi negare la sua identità, si deve assumere che X sia incontrovertibilmente X, altrimenti il non X non sarebbe posto, perché è tale relativamente a X. E con ciò non sarebbe posta neanche la negazione dell'identità di X. Solo tenendo ferma X come identica a sé, si può prospettare l'essere non X di X da parte sua, ma l'essere non X da parte di X non riesce ad essere una negazione determinata dell'identità di X, giacché deve già affermare e assumere implicitamente come incontrovertibile l'identità di X per porre il non essere di X da parte di X. Se così non fosse, il non X non sarebbe differente da X. E dunque X non potrebbe in ogni caso essere altro da sé, ovvero non X. L'autonegazione della negazione dell'identità di X significa che X, se è essente, non può avere avuto un tempo in cui non fosse, o avere un tempo in cui non sia più. Infatti, che X in quanto essente non sia più o non sia ancora, è impossibile perché per accadere ciò dovrebbe essere l'identità di X a non essere più o ancora. Ma affinché X non sia, è necessario innanzitutto che X sia, perché è X che sarebbe ritenuta non più o non ancora essente, non altro. X, se è essente, non può essere in alcun modo non essente, non perché il non esserlo costituisca una semplice contraddizione, ma perché costituirebbe una situazione autonegantesi, in cui la negazione dell'identità di X non riuscirebbe a darsi, in quanto la richiederebbe a monte, affermandola implicitamente ed essendo quindi impossibilitata poi a negarla esplicitamente, che, se lo facesse per assurdo, finirebbe in autonegazione. Ricapitolando, X può essere solo se esiste, ed è identica a sé. Il cessare o l'incominciare di esistere di X è impossibile, perché implicherebbe la negazione della sua identità, ovvero una situazione autonegantesi. Dell'impossibilità che X si crei, si annulli e si trasformi, segue l'impossibilità del suo divenire e la necessità che sia eterna. Parentesi, la trasformazione implicherebbe sempre l'annullarsi di un qualche aspetto essente della realtà e il prodursene di altri, il che risulta impossibile per i motivi già spiegati, e che ho trattato in alcuni video, di cui magari metterò il link sotto in descrizione a questo. Per questo, per quanto spiegato, secondo le tesi di Emanuele Severino, gli istanti della realtà sono configurazioni eterne, che sono ed appaiono eternamente, prima, durante e dopo, e loro apparire nella nostra esperienza. In quanto è l'unico modo per affermare una variazione fenomenologica non autonegantesi, non contraddittoria, che quindi non porti delle condizioni assurde dei passaggi nichilistici impossibili per alcun aspetto della realtà.